Siamo a Milano per un incontro con la stampa che ha fatto il punto sul rischio cardiovascolare sul ruolo clinico, farmacologico e clinico degli Omega 3, dei farmaci che sono piuttosto utilizzati nei pazienti più ad alto rischio per la prevenzione secondaria degli eventi cardiovascolari. Facciamo il punto sugli studi condotti in Italia perché il nostro paese ha svolto un ruolo piuttosto importante per la validazione di questi farmaci con il dottor Maggioni a capo del centro studi Amco. Dottor Maggioni, qual è stato il ruolo del centro studi e in generale della ricerca italiana per capire, per conoscere a fondo l'utilità, la validità degli Omega 3? Direi che l'Italia è stato il paese chiave nello studio di questi farmaci. Ha cominciato a fare il primo studio negli anni 90, verso la metà degli anni 90, il primo studio si chiamava Gisi Prevenzione, è uno studio che ha incluso 11.000 pazienti subito dopo l'infarto, nelle prime settimane che seguivano l'infarto e per la prima volta è stato dimostrato che con l'aggiunta di un grammo al giorno di Omega 3 è possibile ridurre la mortalità totale dei pazienti dopo l'infarto, in particolare della morte improvvisa. Questo primo studio è stato condotto in collaborazione dall'Amco e dal Mario Negri. Pochi anni dopo, nel 2004, è iniziato un altro studio in una condizione clinica diversa, che è quella dello scompenso cardiaco. In questo caso sono stati randomizzati circa 7.000 pazienti, cioè 7.000 pazienti sono entrati nello studio e trattati o col placebo o con gli Omega 3 e anche in questo caso c'è stato un risultato favorevole. La mortalità si è ridotta in maniera moderata, del 9%, però si è ridotta aggiungendo gli Omega 3 al meglio delle terapie raccomandate, determinando questa lieve riduzione ma senza pagare nessun prezzo perché sono oggetti terapeutici veramente sicuri. Anche questo studio è stato condotto con la collaborazione dell'Amco e dell'Istituto Mario Negri. C'è infine un ultimo studio, quello pubblicato più recentemente, che è stato condotto dal Mario Negri insieme ai medici di medicina generale ed è uno studio che si chiama rischio e prevenzione, che è stato condotto in pazienti che non avevano avuto primo un infarto miocardico, cioè si è passati dalla prevenzione secondaria, agissi prevenzione, alla prevenzione della morte improvvisa, della mortalità totale, delle ospedalizzazioni nei pazienti scompensati, alla prevenzione degli eventi, dei primi eventi vascolari in soggetti ad alto rischio che non avevano mai avuti. In questo caso il risultato è stato neutro, probabilmente perché oggi quando si trattano i pazienti al meglio di tutte le terapie raccomandate il rischio è basso, come in prevenzione primaria, un'aggiunta sistematica di questi prodotti terapeutici non è stata in grado di migliorare la sopravvivenza. Ecco, qual è alla luce di questi studi, anche di tutti gli altri studi che sono stati condotti nel resto del mondo, un bilancio sull'utilità di questi farmaci? Qual è il setting terapeutico in cui possono dare realmente un beneficio? Ma dunque possiamo dire che ci sono luci e ombre e le luci sono sicuramente la prevenzione della morte improvvisa subito dopo l'infarto, nel periodo che segue immediatamente l'infarto miocardico e la riduzione della mortalità e delle ospedalizzazioni nei pazienti che hanno uno scompenso cardiaco conclamato. Le ombre sono quelle della prevenzione primaria, lo grande studio italiano condotto con i medici in medicina generale non ha dimostrato un beneficio e l'altra ombra se si vuole c'è un altro studio grande condotto in Canada in cui anche l'Italia ha partecipato, uno studio che si chiama Origin, che ha testato l'effetto di questi farmaci nei soggetti diabetici ad alto rischio. Sistematicamente anche in questi soggetti non si è evidenziato un beneficio, quindi oggi le indicazioni sono quelle classiche di tipo farmacologico, il trattamento della ipertrigliceridemia, quando i trigliceridi sono alti si sa che utilizzando gli omega 3 si possono abbassare significativamente e per il trattamento e la prevenzione più che il trattamento della morte improvvisa subito dopo l'infarto miocardico. Questi sono i due ambiti nei quali è anche possibile trattare i pazienti con la completa rimborsabilità del nostro servizio sanitario nazionale.